Allora, ciao a tutti! Oggi vi porto il film che ho visto recentemente, in questo weekend, facendone una piccola recensione. Ho scoperto il trailer che trovate in descrizione, quasi per caso, in realtà, e il film si chiama La cura del benessere. È un film che appunto tutti coloro che hanno Amazon Prime ce l'hanno già incluso, non è a pagamento, non è nulla, a patto di avere appunto questo tipo di servizio. E mi ci sono imbattuto quasi per caso guardando un trailer così online, e più che altro il nome Gore Verbinski, appunto il regista, mi ha immediatamente acceso una lampadina. Tra l'altro, putto lì questa nota, è un regista eccezionale, tra l'altro è stato poco nei riflettori del panorama internazionale, proprio lui come regista. Però parliamo di colui che ha portato gli horror di stampo giapponese a diventare mainstream, grazie a The Ring, film epocale, film che ha fatto la storia del cinema, quindi comunque davvero fondamentale. È colui che ha portato la maledizione della prima luna, i famosi pirati dei Caraibi, diventando da attrazione Disney diventata film, a un fenomeno assoluto, totale, globale, mondiale, da centinaia di milioni di dollari. Per quanto mi riguarda, nonostante lui ci sia occupato anche dei seguiti, il primo capolavoro assoluto anch'esso storia del cinema, tutto il resto veramente discutibile, schifezza, pacottiglia, davvero di pessima qualità. Però resta il fatto che comunque è colui che ha portato questo brand a fama mondiale. È colui che ha portato Rango, film d'animazione di cui probabilmente si è persa memoria storica, però resta il fatto che gli ha portato il premio Oscar come miglior film. Quindi stiamo parlando comunque di qualcuno che è di sicuro da guardare, da tenere in considerazione quando fa un lavoro, quando decide di portare qualcosa al cinema. Purtroppo è solo Lone Ranger, film che a me è piaciuto, peraltro non posso esserne totalmente in disaccordo con, invece la maggior parte del pubblico che l'ho accassato completamente. Campagna promozionale esagerata, doveva essere il nuovo Pirati dei Caraibi, e invece fu un flop al cinema. E chiuse lì anche questo tipo di tentativo di portare un brand nuovo lato mainstream. Forse anche pensando che a volte il pubblico sceglie qualcosa di nicchia per portarlo a livello assurdo, e quando invece si studia a tavolino il progetto mondiale, poi la cosa lascia un po' lì. Però, chi se ne frega, nel senso vi ho detto tutto questo perché ci tenevo a fare questa introduzione su un regista di caratura così importante come Gore Verbinski, e devo dire che invece La cura del benessere è un film abbastanza banale, non dico pessimo perché non è vero, però è un film abbastanza dimenticabile, e ve ne parlo non tanto perché voglio che anche voi lo guardiate in questo caso, ma proprio perché nonostante dietro ci sia una grande mente, rientra tra i flop assoluti, totali, dimenticabili di che un regista, praticamente è stato in silenzio per tre anni dopo The Long Ranger, sceglie di portare questo progetto al cinema, e il film fa veramente schifo. Innanzitutto di che cosa si parla trovate tutto abbastanza chiaro nel trailer, è la storia, mettiamola in questo modo, io non voglio sapete fare spoiler e sceglierò appunto di non darvi alcun tipo di elemento, è una sorta di thriller che si basa quasi tutto su una sorta di indagine, ovviamente la persona, il protagonista, non è un detective, non è un poliziotto, ma è tutto basato su una sorta di intrigo da svelare all'interno di un panorama che diciamo salta un po' dall'horror al thriller a una situazione tesa, tra l'altro è molto bravo da questo punto di vista il regista perché anche The Ring molti lo considerano film dell'horror per alcuni elementi, ma in realtà è un thriller molto intelligente, riesce a mettere tensione senza spaventare necessariamente lo spettatore. qui invece è un progetto stanco anche perché la durata del film è inutilmente lunga, si poteva chiudere tutto molto prima e nonostante delle inquadrature eccezionali, il regista è fantastico, ripeto, le migliori tra l'altro purtroppo le vedete nel trailer, ce ne sono anche altre, lui davvero riesce a posizionare la camera in modo tale da insegnare qualunque tipo di spettatore cosa significhi essere un grandissimo regista, su questo è da concederglielo sempre, però resta il fatto che comunque è una trama prima di tutto incredibilmente stanca, punto secondo a metà film e non penso di essere la persona più sveglia del mondo, avevo già esattamente capito come sarebbe finito ma non più o meno esattamente come sarebbe finito cioè lui il regista semina alcuni elementi per cui è palese come il film sarebbe andato avanti anche perché ormai noi siamo in un'ottica di pellicole per le quali siamo già pronti a qualsiasi cosa ovviamente ripeto non farò spoiler di nulla però noi quando guardiamo un film sappiamo che qualsiasi tipo di pellicola noi stiamo guardando potrebbe improvvisamente sfociare in uno stravolgimento di qualsiasi tipo di genere che ne so da una commedia a un dramma da un horror a un non lo so fantascienza qualunque cosa proprio per cercare da un certo punto di vista di stupire lo spettatore dall'altro proprio perché si cerca sempre di trovare qualcosa di qualche spunto innovativo e quindi voi quando vedete questo film già partite dall'ottica che potrebbe evolversi in qualsiasi modo quindi ad un certo punto nella trama vi dicono una cosa e voi dite ah ok quindi il 99% finisce così ed effettivamente finisce proprio in quel modo quindi anche il climax telefonato talmente tanto che no lo so non mi ha fatto davvero impazzire inoltre parliamo invece del degli attori attori tra l'altro fenomenali l'attore principale adesso spero di pronunciarlo correttamente che si chiama Dane Dane lo trovo fantastico io ogni volta che lo vedo si è anche occupato di Valerian e altri progetti magari non sempre di super spicco però a me è davvero simpaticissimo lo trovo un attore fantastico e tra l'altro in questo film in alcune situazioni vi fa dire se dovessero fare un nuovo Batman io tantissimo lo vorrei come Joker perché si presta alla perfezione per essere uno di uno dei cattivi da diciamo da antologia di Batman ma vabbè anche questo lo chiudiamo come parentesi però ci tenevo a dire che lui è davvero davvero molto bravo e il secondo attore fantastico è Jason Isaacs che recentemente magari voi avete visto anche in Voyage scusate la nuova serie di Star Trek davvero davvero molto bravo generalmente sceglie di fare parti da da cattivo è un cattivo a volte non è cattivo a volte fa sembrare di essere cattivo però insomma è comunque un personaggio inquietante o che riesce ad essere quel tipo di rassicurante che dietro potrebbe esserci quel qualcosa di sinistro intanto stavo dicendo Star Trek mi riferivo a Discovery scusate non avevo finito la frase si è occupato anche di DOA progetti anche minori per la televisione o comunque progetti maggiori proprio per il cinema puro è un attore che che mi piace molto lo associo un po' a Christopher Waltz ormai scoperto e portato un po' alla luce anche da da Tarantino ma proprio perché hanno quei sorrisi sinistri rassicuranti che poi in realtà portano a chissà cosa c'è effettivamente dietro di terribile o meno e chiudo qua quindi di sicuro attori di primissimo livello però un film assolutamente da dimenticare potreste guardarvelo solo ed esclusivamente se come me amate così tanto questo tipo di regista ma anche in questo caso forse meglio che il regista stesso si dimentichi questa pellicola grazie a tutti al prossimo video ciao